Domenica 3 luglio ad Ogliastro Marina, in piazza Giovanni Paolo II, nel comune di Castellabate, per il secondo anno consecutivo Greta Mauro e Carlo Vulpio hanno presentato il libro del giorno dopo, il talk show dedicato alla presentazione di diversi titoli insieme ai loro autori. Una folta platea seguito con interesse è il format culturale, organizzato brillantemente dal presidente della Fondazione Pio Alferano e Virginia Eppolito, Santino Carta. Sul palco presenti Vittorio Sgarbi per presentare Raffaello, un dio mortale, la nave di Teseo editore e poi il testo 70 scritti e altrettanti auguri, Franco Maria Ricci editore. Lo scrittore e saggista Marcello Veneziani invece ha presentato il volume La Cappa, Marsilio editore, il cantante Enrico Ruggeri, il libro Un gioco da ragazzi, la nave di Teseo editore. Il direttore degli scavi archeologici di Pompei, Gabriel Zugtrigel, ha presentato invece il suo saggio dedicato a Pestum, i luoghi dell'archeologia per Carocci editore. E infine Federico Palmaroli in arte oscio, personaggio amatissimo e famosissimo per le sue vignette satiriche, ha illustrato l'ultima sua fatica letteraria, Carcola che ve sponno, il meglio e il peggio di un anno italiano, edito da Rizzoli.